E' ancora caldo record, salgono le temperature ed aumentano i disagi anche per i nostri amici a quattro zampe, in sofferenza per le elevate temperature. Nei giorni scorsi ad Arezzo i vigili urbani e vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un gatto che si trovava nel balcone di casa della città, sotto il sole cocente di questi ultimi giorni. Il micio mi agolava e chiedeva aiuto, è scattato così l'intervento per metterlo in salvo. Il caldo è sicuramente peggiore del freddo perché con il caldo il cane può morire in pochissimi minuti. E' proprio dell'altro giorno che c'è stato unitamente ai vigili urbani che ringrazio una vigilessa fantastica che ha scavalcato un balcone per salvare un gattino dimenticato in terrazza. Se era stata chiusa la tapparella il gattino era morente. Quindi attenzione, se avete un animale in casa prima di chiudere le finestre controllate, non lasciate mai, anche se la macchina è all'ombra, ma la macchina è caldissima. Quindi il cane si può sentir male. Fate attenzione perché potreste perdere il vostro migliore amico in 5 minuti. Grazie a tutti.